Allora siamo con Eric Anderson, delegato sindacale dei laboratori ADL Cobas del PRIX di Grisignano, iniziativa davanti alla cooperativa sorgente di Verona. Cosa sta succedendo Anderson? Allora, 10 mesi che stiamo aspettando il nostro Tf. Alcuni sono stati pagati 300 euro, è stato versato nei loro conti. Abbiamo messo accordo con l'associente che venga pagato entro il giorno 15, che sarebbe 5 giorni passati o 6 giorni, di essere preciso, ma i bonifici che hanno fatto, distinta di bonifici che hanno fatto, era fasula, era proprio falso, perciò noi siamo qua per i nostri diritti, di essere pagato entro pochi giorni. Grazie a tutti, ciao.